Oggi ti do quattro consigli su come vivere meglio. Quattro consigli, quattro cose che alla fine del video dici ma lo sapevo già, non importa sentire uno che me le dici e invece non lo fa nessuno, quindi evidentemente c'è bisogno magari non di dirle ma di ricordarle. Eccole qua, osservate queste quattro regole per vivere meglio. Vivere meglio significa guadagnare il più possibile lavorando meno tempo possibile sempre con l'obiettivo finale della rendita automatica. Numero uno, non passare la vita aspettando che arrivi il weekend. Ma sapete quanta gente c'è che vive così? Lunedì e martedì giorni di depressione, mercoledì più o meno passa, giovedì carino, venerdì bellino perché sappiamo che domani arriva il sabato, sabato gran bella giornata, domenica la mattina è bella ma al pomeriggio è il giorno di depressione più grande della settimana. Quindi alla fine su sette ne abbiamo fatto un e mezzo che è stato più o meno positivo se le cose sono andate bene. Fate il conto, 40 anni di lavoro, di non lo so 45 settimane di lavoro all'anno, 45 per i giorni che avete lavorato e i giorni che questo uno e mezzo che... Ma ti sembra? Ma bisogna vivere così? Cioè fai questi conti, fai la lista delle giornate che sono state belle, sono state brutte alla fine della tua vita, ma quando avrai 70 anni vorrai vederlo così. Ah io ho passato 70% della mia vita a soffrire, aspettare un weekend, aspettare di andare fuori con i soliti amici e fare le solite cose e spendere un mucchio di soldi per poi arrivare a casa che alla fine sapevo che la mia vita era sempre così. No, cerca di costruire una vita dove non esiste più la dipendenza del giorno settimanale, del sabato, della domenica. Cerca di costruire una vita dove i soldi comunque ti entrano. Sto parlando di rendita automatica o comunque un lavoro molto automatizzato, in modo da non essere più dipendenti dalla schiavitù del fine settimana. Consiglio numero 2. Non arrivare alla fine del mese senza soldi. Grazie al cazzo! Sì, facile da dire e molto difficile da fare. La soluzione è guadagnare di più. Certo che aiuta a guadagnare di più, ma senza una buona gestione no, non si fa niente. Quindi prima gestire quello che si guadagna e poi si è pronti eventualmente per guadagnare di più. A questo proposito vi linko qua sopra il mio video del metodo dei tre conti, e cioè tre conti bancari con i quali gestire meglio le entrate e soprattutto le uscite. Consiglio numero 3. Se stai lavorando a nuovi progetti, se hai dei nuovi obiettivi, ecco questa cosa non farla dopo il lavoro. Perché anche se lavori solo 4-5 ore al giorno, comunque dopo sei stanco. Le migliori energie le hai messe lì. a parte che un giorno ci sono i figli ad andare a prendere la scuola, il giorno dopo un problema, il terzo giorno è degli amici, il quarto giorno è sabato, cosa vuoi che lavori di sabato, vacanze, eccetera, eccetera. Per cui prima fai la cosa nuova che è la cosa più importante, la cosa che ti dà più libertà, eventualmente, che speri, che supponi che ti dia più libertà, e poi dopo fai il lavoro normale. Lo so cosa state pensando, ma io mi sveglio alle 7 per andare al lavoro alle 8. Ecco, alla sera invece di impasticcarti di serie stupide o di guardare cosa ti dice la tv corrotta, vai a letto presto, svegliati alle 3 e alle 4 comincia a lavorare fino alle 7. O non è un giorno di lavoro, però comunque hai fatto 3 ore, 3 ore, che sei super concentrato. Gli altri sono a letto, stanno consumando il loro tempo a dormire, in realtà tu hai dormito prima, perché alla sera sei andato a letto alle 8, alle 9. Vita di merda? Certo, non è una bella vita perché sei continuamente concentrato sui tuoi obiettivi, e questo magari sarebbe meglio stare davanti alla tv con il telecomando in mano, che comunque a me non piace tanto. Ma questo è il metodo per raggiungere gli obiettivi, così un giorno eventualmente sarai libero finanziariamente. Quando un suo collaboratore disse ad Arnold Schwarzenegger, ma non ho tempo, dovrò pure dormire, lui gli rispose, dormi più in fretta. Quarto ed ultimo consiglio, non far casa a quello che pensano di te e gli altri, a quello che gli altri si aspettano da te, altrimenti diventi un loro dipendente, fai quello che vogliono loro, fatti pagare magari per questo, vogliono che ti comporti in quel modo, ti danno un total ora e tu fai il pagliaccio davanti a loro. Ma siccome di professione non fai il pagliaccio del tuo gruppo di pari, che evidentemente tanto pari non sono, allora cerca di fare quello che credi. E se questi non apprezzano, devi essere sufficientemente forte per credere in te stesso. Quante persone abbiamo noi tutti intorno che con la loro faccia del so io come risolverti tutti i problemi ci danno consigli che invece sono cazzate, per esempio quanti mi dicono ma la maglietta nera perché non la metti bianca che ti dà luce, quell'altro dopo dieci minuti mi dice ma sai che bello che porti sempre la maglietta nera, ma poi scusa potrò decidere io come mi vesto o devo chiederlo a te, cioè quando avevo quattro anni lo chiedevo alla mamma, adesso che ne ho qualcuno in più penso di essere abbastanza intelligente per capirlo da solo. Altri che mi dicono di fare molti più video su Tenerife, la gente è stupida, non vuole sapere tutte le cose raffinate che fai, della crescita personale, la gente vuole la pagamento momentaneo, di cosa costano gli immobili, cosa costano gli affitti e la gente è felice. Beh qui bisogna dire che in realtà hanno ragione perché ho molte più view quando faccio video di quel tipo, però sono view che muoiono domattina quando è passata la settimana e quei prezzi lì magari non sono più tanto attuali o magari sono passati due o tre mesi, invece video come questo non hanno tempo, ma questa è una cosa, non volevo commentare i miei video ma solo per dirvi che ognuno ha la sua opinione e se le seguite tutte non riuscite a fare niente perché vi metterete una maglietta metà nera e metà bianca che fa schifo, farete un video così, un video in quell'altro modo non avrete una linea, insomma avrete una vita che sarà il miscuglio di tutto quello che vi hanno detto gli altri. Vi siete scritti queste quattro regolette, questi quattro consigli sono cose che a pensarci sono normali, ma in quanti di quelli che conoscete, voi stessi compresi, fanno tutte e quattro queste cose? Nessuno o quasi, quindi cercate di farle, se non sono quattro, anche solo tre, sicuramente migliorerete la vostra vita.